Allora, io ti faccio vedere che qui ho un massimo di pietà, giusto? Se mi chiesti in scegliere, perché è vicino a te, perché è la carta più importante, e perché è un'immagine che dà una sensazione, qui sono poveri, e ti faccio vedere che qui ho un po' di spiegazione, e mi faccio vedere che qui ho un po' di spiegazione, ma adesso mi faccio vedere che qui ho un po' di spiegazione, giusto? Così ve lo so, giusto? Ci sei? E mi devi capire, giusto? Ora non è senso di parlare, però voglio andare a dire, e pensa, educa la data. Però, aspetta, ricorda che io posso spostare, giocare con la fantasia, giusto? posso dire che è un po' il solito cosa ho fatto con casa e tocca la carta, vai questa adesso c'è andato a fare tre soli tocca la carta questa e no sembra il mondo che potessi toccarmi altissime ma non è finito e abbiamo fatto il tempo, giusto? per reginetta non essere scontata tocca scelta la prima, la seconda, la terza, la quarta questa sette e no e no attenzione la puoi anche cambiare pensaci pensaci bene scelta la carta e no e no ora abbiamo fatto una selezione non solo con una carta vado una carta tre e no 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 no